A Ragusa, Ghanese è arrestato per aver violentato sessualmente la propria compagna, usandole anche violenza fisica, arrivando a bruciarla con le sigarette, tutto questo mentre sarebbe dovuto essere domiciliare in un'altra casa. La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia del presunto caso di malasanità avvenuta a Modica sul registro degli indagati che sotterebbero quattro medici del Maggiore. La Lega esce allo scoperto annunciando a Modica il nome del proprio candidato sindaco, si tratta del veterinario Gabriele Amore che ai nostri microfoni si dice pronto a raccogliere la leadership della coalizione. Bocciata la delibera della variante a piano regolatore per il centro dei disabili a Pozzallo sulla questione sempre aprisse un ospedalio per il dialogo anche se la fondazione rimarca sempre le proprie ragioni. Il commissario tecnico della Nazionale Femminile di Basket Marco Crespi ha visitato oggi Ragusa nell'ambito di Contagio Azzurro, il progetto generante che ha l'obiettivo di vivere la realtà del basket femminile. Ben trovati con l'informazione di Canale 74, apriamo il Tg di oggi con questa notizia di una violenza inaudita da parte di un ganese che era già e domiciliare perché individuato come scafista nel gennaio del 2017. L'uomo era e domiciliare ma nonostante questo si recava nell'abitazione della compagna che era in un'altra casa e le usava violenza sia sessuale che violenza fisica, addirittura è arrivata a bruciarla con le sigarette, una storia veramente di violenza inaudita. Sentiamo. Trattava la propria compagna come un oggetto, usandole una violenza inaudita, violentandola sia sessualmente e provocandole dolore fisico oltre ogni immaginazione, come quando ad esempio la bruciava con le sigarette. E tutto questo lo faceva mentre era agli arresti domiciliari, in un domicilio diverso da dove risiedeva la compagna. I fatti si sono registrati a Ragusa. La protagonista di questa follia, un ganese sbarcato a Pozzallo nel gennaio 2017, è allora arrestato dagli agenti di polizia perché individuato come scafista. Ad allettare gli investigatori un referto medico rilasciato dal pronto soccorso dopo le cure effettuate alla donna che immediatamente è stata chiamata in ufficio dagli inquirenti. Lei, la vittima in questa storia, aveva paura di parlare perché il compagno le aveva più volte detto che se lo avesse fatto, lui l'avrebbe uccisa. Alla fine, però, la donna non ha più resistito a tutta quella violenza e non appena ha riconosciuto di essere in un luogo sicuro, ha abbracciato le donne poliziotto chiedendo aiuto e protezione. Quando si è sentita sicura, ha raccontato tutto alla polizia, le violenze e gli abusi subiti per mano di quell'uomo violento. Adesso la squadra mobile di Ragusa ha messo fine a questa triste vicenda eseguendo il dispositivo di misura cautelare in carcere disposto dal sostituto procuratore ed emesso dalle GIP presso il Tribunale Ebleo. Ieri gli uomini della squadra mobile di Ragusa hanno rintracciato il ganese in un'abitazione del centro storico del Capoluca Ebleo, conducendolo presso gli uffici della Polizia Scientifica in questura a Ragusa al fine di identificarlo per poi accompagnarlo in carcere. La Procura della Repubblica di Ragusa ha iscritto nel registro degli indagati quattro medici dell'ospedale maggiore di Modica. Tutta l'inchiesta è partita dalla denuncia presentata da un cittadino per la morte di un 75enne Giovanni Geratana e per un presunto caso di mala sanità. Sentiamo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha scritto sul registro degli indagati quattro medici e un ausiliario dell'ospedale maggiore di Modica per la morte di Giovanni Geratana, 75 anni, deceduto la scorsa settimana presso il nosocomio e i cui funerali furono bloccati dalla magistratura. È stata già seguita l'autopsia mentre i familiari di Giovanni Geratana si sono riservati di nominare un proprio consulente. Nell'inchiesta della magistratura sarebbero convolti tre reparti, medicina, ortopedia e radiologica. Secondo i figli ci sarebbero responsabilità sulla morte dell'anziano che lo scorso primo marzo era arrivato alla pronto soccorso per un ictus cerebrale. Ricoverato dopo quattro giorni è stato disposto all'esame della TAC. Un ausiliario l'aveva accompagnato con una sedia a rotelle nella divisione di radiologia e lo avrebbe lasciato solo davanti all'impianto radiologico. Poco dopo l'uomo è stato colto da malore, cadendo a terra e fratturandosi il femore. La lesione aveva indotto i medici a sottoporlo a intervento chirurgico. Terminato l'intervento, nella stessa notte Geratana avrebbe presentato evidenti sintomi di dissociazione entrando in coma, dal quale non si è più risvegliato. Secondo i figli dell'uomo ci sarebbero forti responsabilità sulla morte dell'anziano, tale da portare il caso davanti alla Procura della Repubblica. I funerali interrotti per permettere alla Procura di predisporre l'autopsia saranno celebrati nella chiesa della Sacro Cuore a Modica. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.30. Adesso parliamo della tragica notizia che arriva da Catania, perché c'è tanto sgomento per la morte dei due vigili del fuoco e dell'inculino trovato carbonizzato nella tragica esplosione che si è verificata ieri in una palazzina di via Sacchero altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. Gli uomini dell'Asec, l'azienda che gestisce il servizio del gas in città, hanno escluso che si sia trattato di una perdita proveniente dalle tubature, accreditando così l'ipotesi che la deflagrazione sia collegata a una bombola contenuta nella stanza che, secondo quanto riferito dai residenti, era stata adibita al deposito di bici dall'anziano titolare. I vigili del fuoco deceduti sono Giorgio Grammatico, di 37 anni, e Dario Ambiamonte, di 39 anni. Parliamo adesso di politica, si avvicinano le amministrative, anche Modica è chiamata il voto, e proprio la lega di Modica esce allo scoperto proponendo il proprio candidato a sindaco. Si tratta del veterinario Gabriele Amore, che ai nostri microfoni dirà che è pronto a raccogliere la leadership della coalizione e servizio. Si arricchisce di un nuovo e inaspettato componente l'elenco dei candidati a sindaco per le amministrative di Modica. A fare il passo stavolta è stata la Lega, che propone per la carica di primo cittadino della città della Contea, Gabriele Amore, di 35 anni, di professione medico veterinario. Nell'occasione dell'ufficializzazione di Amore, la Lega Modicana annuncia nomi di spicco anche per il Consiglio Comunale, mantenendo ancora però la riserva sugli stessi. I referenti del partito dei Salvini a Modica stanno lavorando al programma, avviando una serie di confronto con le associazioni presenti in città. La gente ha capito che la Lega fa sul serio, spiega il candidato Gabriele Amore, mettendo in campo proposte concrete e realizzabili a beneficio di tutta la comunità. Riduzione delle tasse politiche sul lavoro, mirate alla piena occupazione e al controllo severo dell'immigrazione clandestina. Sono questi i principali obiettivi che il partito intende realizzare. I recenti risultati alle ultime elezioni politiche hanno dato vigoria al partito, che solo nella città della Contea ha preso 1.326 voti, con una percentuale del 4,89%. Amore si dice onorato, adesso però occorre lavorare per trovare gli equilibri, per creare una coalizione solida e fare in modo che il partito della Lega corra da solo alle prossime amministrative. Oggi sono mille i comuni ad essere amministrati dalla Lega, che anche al Sud, come mai era capitato prima, ha registrato un larghissimo consenso. Adesso il problema sarà proprio quello degli equilibri, perché Amore parla degli equilibri nazionali, che hanno visto la Lega prevalere su Forza Italia, ma in provincia di Ragusa sicuramente così non è stato. Quindi ci sarà da confrontarsi per capire come impostare questa coalizione, se si vuole portare avanti l'idea della coalizione di centrodestra, così come portata in ambito regionale e nazionale. Però Amore dice una cosa, noi ci siamo proposti e siamo pronti a raccogliere la leadership della coalizione. Quindi sentiamo le parole di Amore. La Lega ha colto la sfida di una candidatura certamente innovativa, avendo intercettato la domanda sempre più alta, proveniente dalla gente, di voglia di normalità, a partire dalle tasse, dalla sicurezza, dalla sanità, dai trasporti, dalle politiche sul lavoro che devono puntare sempre di più alla piena occupazione, dal controllo ferreo per quanto riguarda l'immigrazione clandestina. Quindi su questa linea politica la Lega è chiaramente disposta a confrontarsi con tutti nell'area, innanzitutto nell'area di centrodestra e avendo recepito dopo le politiche il chiaro messaggio di aver acquisito una leadership di area e ha così quindi la responsabilità per prima di offrire la sua linea programmatica che è quella che è stata premiata dal risultato delle urne del 4 marzo. Cambiamo argomento, in passato ci siamo molto occupati del progetto del centro di Sabili a Pozzallo, il progetto proposto dalla Fondazione Ciurciù. Ci sono delle novità, ricorderete le polemiche, anche feroci, perché c'è stata una diffida presentata da 39 cittadini che ha avuto anche risalto a livello mediatico perché si diceva che i disabili depreciano il mercato immobiliare. Poi c'è stata da parte del Consiglio Comunale di Pozzallo lo stop perché si è richiesto il parere legale provocando poi l'ira della Fondazione che ha investito molto in questo progetto. Adesso le novità sono sostanzialmente due. Da una parte c'è la Regione che ha convocato per martedì prossimo una conferenza di servizio per dare finalmente il là perché la Fondazione possa utilizzare i locali dell'ex colonia di proprietà adesso del De Manio per poter portare avanti il progetto di turismo assistito con i disabili. Per quanto riguarda invece l'altro progetto, quello del dopo di noi, il progetto della discordia, chiamiamolo così. Invece giovedì scorso si è tenuto un Consiglio Comunale molto partecipato a Pozzallo. In pratica i consiglieri hanno preso spunto del parere legale dato dallo studio Barone che in sostanza dice che quel sito proposto dalla Fondazione Ciurciu non è idoneo e invita l'amministrazione a cercare un altro sito. D'altra parte c'è stato l'intervento di Ciurciu, padre della Fondazione che smonta il parere legale però alla fine, a differenza del passato nonostante si siano utilizzati anche termini forti però si sta cercando la strada del dialogo quindi facciamo la sintesi di quello che sta accadendo sul centro disabili di Pozzallo in questo servizio. Era stata fissata per stamattina ma adesso rinviata a martedì prossimo pare per impegni improrogabili di un funzionario la conferenza di servizio che dovrebbe dare il là definitivo all'utilizzo da parte della Fondazione Yolanda e Francesco Ciurciu dell'ex colonia di Pozzallo per il progetto di turismo assistito dedicato ai diversamente abili un progetto che quindi sembra andare per il verso giusto a differenza dell'altro proposto sempre dalla Fondazione in un sito diverso diventato oggetto di dibattito anche feroce dopo la diffida presentata da 39 residenti e dopo che i consiglieri non hanno dato seguito alla delibera di variante al piano regolatore come richiesto dalla Fondazione Ciurciu richiedendo invece un parere legale sulla questione. Del parere legale rilasciato dallo studio Barone di Ragusa si è parlato nel Consiglio Comunale di giovedì scorso concluso con la revoca della delibera quindi con un no al sito proposto da Giovanni Ciurciu ma finalmente sembra aprirsi lo spiraglio per un dialogo che fino a oggi non c'è mai stato. In apertura un intervento del Consiglio Antonio Zocco Pisana ha condotto tutto il Consiglio Comunale a dissociarsi, condannare e prendere le distanze dal contenuto ritenuto da molti oltraggioso della diffida presentata da alcuni cittadini attraverso la quale avevano in sostanza detto che i disabili depreciano il mercato immobiliare. I consiglieri di maggioranza hanno sottolineato più volte l'opportunità di seguire le linee guida dettate da parere legale che evidenzia una serie di incongruenze nelle delibere adottate dalla giunta precedente e individuando quella della variante al PRG come la via più lunga e contorta. In buona sostanza, gli avvocati consigliano di trovare delle vie alternative individuando altre aree con destinazione urbanistica edonia rispetto alle esigenze del progetto una soluzione che farebbe risparmiare anche dei soldi alla fondazione. Il parere è stato però smontato da Giovanni Ciuciu quando, seppur in regime di sospensione di seduta ha avuto la possibilità di parlare. Il padre della fondazione ha spiegato il perché si è arrivato a scegliere quel sito partendo da una posizione inderogabile. I disabili in campagna non vanno messi. Questo perché tutti i siti individuati dalle amministrazioni precedenti avente destinazioni urbanistiche edonee al progetto risultano essere fuori dal perimetro urbano. A smontare poi il parere legale secondo Ciuciu basta la circolare 5 del 2017 emessa dal competente assessorato territorio ambiente secondo la quale i progetti edificatori finalizzati al sociale non necessitano di varianti al piano regolatore. Per la fondazione la revoca del delibero è un atto frutto di una scelta prettamente politica e non tecnica. La fondazione nel proseguo dei rapporti con l'attuale amministrazione e con l'attuale consiglio comunale ha dichiarato Ciuciu qualora prende atto di prevalere dello spirito collaborativo e costruttivo manifestato e dichiarato durante lo svolgimento dei lavori consigliari è disponibile anche a condividere e accettare come incidente di percorso la presa d'atto del parere legale così come recepito e così come formulato dal legale. Propositivo durante il consiglio è stato anche il sindaco Roberto Ammatuna che si è detto preoccupato per i toni circolati sui social che hanno anticipato l'assise definendoli minacciosi e intimidatori ma adesso il confronto sembra definitivamente rientrato in un clima sereno e costruttivo. E adesso una notizia è giunta da poco in redazione che evidenzia il fenomeno delle corse clandestine di ciclomotori in particolare la notizia arriva a Terracusa dove la polizia locale è intervenuta sabato scorso perché era stata segnalata la presenza di ciclomotori e motocicli sprovvisti di talga impegnati in gare competitive segnalati con l'ausilio della questione di Ragusa 20 ragazzi tra cui un minorenne della battuglia ha constatato la presenza di un centinaio di veicoli a due ruote all'arrivo della polizia molti giovani si sono dileguati. Cambiamo argomento è preoccupante la situazione della crisi dell'Uni Euro che avrebbe ricadute occupazionali sicuramente importanti sull'argomento sono intervenute sia il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico. I vertici Unieuro annunciano l'intenzione di chiudere i centri di Messina e Siracusa e allo stesso tempo danno comunicazione sull'apertura di 40 nuovi punti vendita nel 2018. Sono 50 lavoratori a rischio mobilità o peggio ancora licenziamento. Sulla vicenda chiedono maggiore informazioni e una risposta adeguata sia il PD che il Movimento 5 Stelle. In particolare pentastellati si chiedono cosa può spingere Unieuro una multinazionale avviata con fatturato in crescita a bilancio inattivo a chiudere due punti vendita su tre in Sicilia per investire altrove. Dal partito fanno appello al presidente Musumeci per evitare il processo di desertificazione industriale nella regione già colpita da un basso tasso di occupazione. Lo dicono la capogruppo del Movimento 5 Stelle Lars Valentina Zaffarana i deputati regionali Antonio De Luca e Stefano Zito al termine dell'audizione della commissione lavoro convocata proprio ieri per l'avvertenza dei lavoratori Unieuro. Presenti tra gli altri l'assessore regionale al lavoro Mariella Eppolito e i sindacati Fisaskat Cisdl di Siracusa e Filcams CGL di Messina. Dal PD invece il parlamentare regionale Franco De Domenico chiede la convocazione di un vertice aziendale a interessare al parlamentare il futuro lavorativo. 50 lavoratori sono a rischio mobilità o licenziamento in Sicilia dopo oltre 15 anni di lavoro a causa della decisione dell'azienda di ritirarsi dal territorio spiega il parlamentare nonostante il gruppo non stia subendo alcuna crisi. Il nostro interesse spiega è mosso dalla necessità di tutelare i lavoratori che da oltre 7 anni utilizzano ammortizzatori sociali. La tutela dei posti di lavoro è fondamentale e l'obiettivo principale delle istituzioni. Per il prossimo a Scigli si parlerà di eco-reati con la presentazione del manuale del magistrato Luca Ramacci. L'iniziativa è organizzata da Lega Ambiente e sarà anche la prima uscita ufficiale del neopresidente nazionale Stefano Ciafani. Servizio. Sarà a Scigli la prima uscita ufficiale del neopresidente nazionale di Lega Ambiente Stefano Ciafani molto legato alla provincia di Ragusa in occasione della presentazione del manuale autotutela ambientale del cittadino che sterrà venerdì 23 marzo alle ore 18 presso Mediterranea Hop in Corso Mazzini. Sarà un momento particolarmente importante anche per la presenza del magistrato Luca Ramacci e poi per il ritorno dell'oggi neopresidente nazionale che inizierà proprio dalla cittadina ragusana il percorso alla guida dell'associazione. Una circostanza sottolineata anche da Alessia Gambuzza presidente del circolo Lega Ambiente di Cicli Chiafura. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di spiegare in modo divulgativo la normativa ambientale con un manuale agile e di facile lettura dare ai cittadini tutti gli strumenti di base per difendersi dall'inquinatore di turno illustrare i dettagli della rivoluzione di legalità inaugurata con l'approvazione della legge 68 del 2015 sugli eco-reati grazie alla quale i principali reati ambientali sono finalmente entrati nel codice penale. L'autore del manuale è Luca Ramacci autorevole magistrato di fama nazionale per il suo passato da sostituto procuratore e il suo presente da consigliere della Corte di Cassazione e uno dei massimi esperti di legislazione ambientale nel nostro paese da sempre impegnato nella tutela dell'ambiente ha collaborato nel passato in varie forme con il lega ambiente Pino Savà è stato nominato responsabile provinciale dell'ACLI la nomina è arrivata dalla presidenza nazionale ce ne parla Piero Burugano nominato dalla presidenza nazionale ACLI il responsabile provinciale Bleo si tratta di Pino Savà la nomina arriva con lo scopo di creare le condizioni per il superamento delle difficoltà che hanno determinato il commissariamento del comitato provinciale ACLI di Ragusa Punto a promuovere dice Savà difendere e tutelare i veri valori dello sport perché è evidente a tutti che esso rappresenta uno strumento in occasione di benessere e partecipazione la nostra ACLI ha un'importante esperienza nella promozione e nel sostegno alle società affiliate o che vorranno aderire al nostro ente di promozione sportiva proseguiremo lungo il percorso tracciato dal progetto educativo della nostra associazione con l'obiettivo della nostra organizzazione stessa con tenacia cercando la collaborazione di tutti un'attenzione privilegiata è rivolta ai ragazzi e ai giovani ed adulti non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più facili attività di ricreazione di aggregazione e di impegno ma soprattutto perché la pratica motoria ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo lo sport ha una responsabilità anche sotto l'aspetto sociale non possiamo tirarci indietro rispetto alle spide più urgenti che stanno davanti a noi il ruolo dell'impresa sociale la strategia dell'alleanza il passaggio da una cultura del sostegno istituzionale ad una imprenditoriale lo sviluppo di un'etica di ridistribuzione delle risorse tre i percorsi virtuosi da seguire l'innovazione e il rinnovamento il lavoro per i progetti e la formazione permanente la sicurezza la sicurezza degli operatori che lavorano in ambito della sanità mentale al centro di un corso di formazione organizzato dall'ASP Valentina Di Rosa si è concluso oggi all'ASP di Ragusa un corso formativo molto partecipato sulla sicurezza dei lavoratori dell'ASP la sicurezza degli operatori nei servizi di salute mentale valutazione e trattamento dei comportamenti violento aggressivi sono state affrontate tematiche quali la valutazione e il trattamento dei comportamenti violenti talvolta aggressivi il corso di formazione è stato organizzato e voluto dal dipartimento di salute mentale il direttore del dipartimento Giuseppe Morando spiega come fondamentale l'incontro tra le varie figure professionali volto a individuare strategie necessarie per la gestione di pazienti talvolta aggressivi in quanto non in grado di reprimere o comunque controllare gli impulsi il comportamento aggressivo rientra nella patologia psichiatrica che colpisce il paziente questi comportamenti si articolano in varie fasi conoscerle permette di operare meglio riuscendo a relazionarsi con più facilità al paziente individuare precise strategie operative comportamentali individuali o coordinate è l'obiettivo che il corso si è posto e chiudiamo con il basket con la visita a ragusana del tecnico della nazionale femminile azzurra Marco Crespi i motivi di questa visita nel servizio il commissario tecnico della nazionale femminile di basket Marco Crespi insieme alla vice Giovanni Lucchesi oggi sarà a Ragusa nell'ambito di contagio azzurro il progetto di allenamenti itineranti voluto dallo stesso Crespi e che ha come obiettivo quello di vivere la realtà del basket femminile con continuità attraverso lo scambio contagioso con le giocatrici come principali protagoniste e con la FIP e i club impegnati in una collaborazione costruttiva due gli allenamenti in programma oggi al Palaminardi con la prima squadra della Passalacqua Ragusa nella mattinata si sono allenate le lunghe e successivamente toccato al pacchetto delle esterne nel pomeriggio inoltre Lucchesi dirigerà l'allenamento delle under 16 contagio azzurro e l'impegno del settore delle squadre nazionali a viaggiare per vedere ascoltare e parlare delle realtà del basket femminile per lavorare con le giocatrici di interesse allargare la base e stabilire un contatto continuo con loro e i professionisti che quotidianamente si dedicano a loro un appuntamento di sicuro interesse dunque per tutti gli appassionati di basket e gli addetti ai lavori questo era l'ultimo servizio vi ricordo che potete vedere le nostre notizie collegandovi sui nostri canali social facebook e youtube oppure sul nostro sito www.canal74.it dove potete vedere anche lo streaming di quello che va in onda su canale 74 da parte mia è tutto grazie per averci seguito vi lascio con la programmazione di canale 74 grazie per averci seguito